Buongiorno, mentre aspetta vuol venire con me nel mio uffito? Lei ha scelto CEAT, ha fatto bene. Le faccio vedere un film dimostrativo sui pneumatici CEAT. Con CEAT, aderenza perfetta. Ha visto? Prenata sicura. Pneumatici CEAT, stabili anche sul bagnato e su strada ghiacciata. Sicuri in ogni emergente. Quattro ruote, quattro CEAT. Io guido sereno.